guardate un po' che bello è, qui si manca solo da fare il presepe, muschio, licheno e ginepro, vedete, guarda quanto è bello, adesso sto a salire, adesso qui ai piedi del castagnetto, poi vado al castagnetto dell'Anse, ci sono due castagni, due, ce ne sono 4 o 5 a Lucca, ecco un bel percorso, la prossima volta ve lo faccio con il sole, però è altrettanto bello, perché con la nebbia si ha una visualizzazione limitata e quindi l'occhio percepisce più da vicino il panorama, perché quando il panorama è maggiore, l'occhio vaga, vaga altrove, qui sotto c'è la cava, l'ex cava, adesso non si vede, ho uno di questi giorni, vi faccio una bella visitina e quante volte ho transitato qui su queste mulattiere, da ragazzini andato a pascolare, muli, cavalli, asini, che è il mio padre, se fermiamoci un attimo qua, guardate un po', questo è un tipo di lichene, un altro tipo di lichene, poi c'è anche il muschio, il muschio, e guardate quanto è bello questo lichene, bellissimo, poi con l'umidità, guarda, ho la roccia, il pino silvestre, guarda, 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 guarda Grazie.